Leo Junior, sempre tantissimo entusiasmo a pescare ai tifosi in festa quando torna. Per me è un piacere, un orgoglio anche di aver fatto parte di una storia bellissima della città con questo calcio degli anni Ottanta, anche per ritrovare un po' i miei compagni, i miei amici, più che compagni amici come Pagano, come Marcheggiani, gente che siamo rimasti dopo 30 anni ancora assieme. Io vengo volontario a pescare, da quando sono andato via, sono mancato solo l'anno scorso perché è nato il mio dipote. Tutti gli altri anni vengono sempre spesso. Seguo spesso perché ho tifato anche adesso quando sono andato nei play-off e magari ritrovare questa squadra in Serie A. E' sempre la stessa cosa, quando si trovi bene in un posto vai via e c'è anche l'affetto della gente, è difficile scordare. Questo certamente è capitato anche con me, anche se saranno passati 50 anni, io avrò sempre qualcosa da guardare, non so della città ma soprattutto della società. Sabato inizierà il campionato di Serie B, un messaggio, il messaggio di Leo Junior alla squadra e ai tifosi per questa stagione? Ragazzi, forse a pescare, speriamo come 86-87 o 91-92 di ritornare in Serie A. Grazie. Grazie.